Frittata di maccheroni La frittata di maccheroni è un piatto napoletano. Per eccellenza tipica ricetta utile per riciclare. La pasta avanzata per creare con semplicità. Un pranzo o una cena veloce. Ingredienti 1 kg di maccheroni 1 kg di passata di pomodoro 1 cipolla 15 uova 20 g di burro 200 g di parmigiano grattugiato Sale e pepe quanto basta. Preparazione Questo piatto è sicuramente un piatto da riciclo per Iniziare a realizzarla dovreste già avere a disposizione un piatto di pasta avanzata dal giorno prima è possibile iniziare anche da zero. Mettete l'acqua per la pasta a bollire non appena raggiunta la temperatura ideale salate e fate cuocere i maccheroni per circa 10 minuti. Iniziate quindi a preparare il condimento per la pasta. All'interno di una padella versate un po' d'olio e Successivamente fate soffriggere la cipolla. Non appena la cipolla sarà imbiondita aggiungete il Pomodoro e lasciate cuocere per qualche minuto. All'interno di una ciotola versate i maccheroni insieme al burro al formaggio al pepe e al condimento mescolate tutto con cura per amalgamare bene tutti gli ingredienti. E successivamente versate il composto in una teglia e lasciate riposare tutto in frigo per qualche minuto. Rompete le uova in una ciotola e sbattetele per Bene con una forchetta aggiungete il formaggio il sale e un pizzico di pepe aggiungetele. Uova sbattute alla pasta e iniziate a mescolare con cura finché la pasta non sia ben amalgamata con l'uovo. Prendete una padella grande quella di 42 cm di diametro è perfetta fate riscaldare un po' d'olio e versate tutto il composto lasciate cuocere per circa 30 minuti a fuoco basso e con il coperchio aiutandovi con il coperchio girate la frittata al momento migliore e lasciate cuocere per altri 30 minuti servite la bella calda e buon appetito. Se il tutorial è stato di tuo gradimento lascia un bel mi piace e ricordati di iscriverti al mio canale un bacio da Carlo a 360 gradi.